Da quando abbiamo lanciato l'iniziativa di alternativa popolare abbiamo avuto consapevolezza che tanta gente si sta avvicinando a noi, reti civiche, territoriali. Non vogliamo essere soli e vogliamo unirci a tutti coloro i quali vorranno partecipare a una grande vicenda democratica che noi abbiamo chiamato le primarie liberali e popolari. Un popolo che rappresenterà tanti italiani parteciperà un giorno a delle primarie in cui sarà selezionato il portabandiera. I primi ad avere già dato l'ok, oltre i due che hanno lanciato l'iniziativa, ossia alternativa popolare che siamo noi e i centristi per l'Europa di Pier Ferdinando Casini, i primi due che hanno già detto di sì sono Flavio Tosi che è il leader del movimento politico fare ed Enrico Zanetti che è il leader di scelta civica. Volevo sapere se c'è una preclusione, un veto alla partecipazione di Denis Verdini. Per le nostre informazioni Verdini non intende più giocare una partita da protagonista, Denis Verdini, contro il quale noi non abbiamo mai avuto nulla di personale nonostante le traiettorie differenti degli ultimi anni e quindi questa mi pare che sia una sua decisione.